Ma bentornati su Shadow Gambit, stiamo finalmente facendo la prima partita reale senza troppe storie Vediamo di fare il meglio possibile Abbiamo scelto la nostra squadra su Lady che è secondo me OP perché fa i cespugli a caso Mentre... ah che è quella che si teleporta Che cosa ci chiedeva la prima missione? I poteri dell'Amarly, usati lì per scoprire dov'è custodito l'enigma Sinceramente non so perché tu sia lì La morte non segna la fine Ah sì? Potrei animare i compagni caduti in una missione ma il tempo di animazione è limitato Inoltre ogni volta che un personaggio muore nuovamente il tempo di animazione si riduce Ah com'è il Dawn End di Guild Wars Il compagno di squadra è perduto se non lo resti in tempo Puoi continuare a giocare e a completare la missione a meno che non abbia condizioni speciali Sì ma siccome c'è andata per cassi suoi io ricarico Lo mettiamo tutto evidenziato perché se non si rende canto Non preoccuparti se non perdere i detali o ripetare le conversazioni Lo che importa è che tu non finisci e morti, ok? Io Io ero lì Io ero lì Io ero lì C'è un nome pranzo sui come giunzi toccalo qua c'è una possibilità di fare un abbattimento qui addirittura è collegato non so a che cosa ah quello lì prendiamo togliere più nemici possibile è sempre una cosa molto utile qui stiamo accovacciati così non ci vede vediamo tutti questi frammenti intressante il nostro obiettivo molto importante è lui puoi anche non ricordarmi di salvare continuamente chissà se questo viene preso si accorgono che si spegne la luce perché è molto illuminato di coragno seresa questo è uno di quelli legati con i numeri andiamo avanti il tempo quant'è bella questa funzione in teoria non lo senti ok ci ha dato un progresso che era legato a quello appunto dei dev non c'è più nessuno da posto ovviamente non ci conviene spostarle contemporaneamente allora impostiamo la kill che con lei che ci abbatte lui mentre lei una volta morto ci prende lui ci prende lui il range di quella skill è molto lontano però lo facciamo pazzi ti rendi lei eeeh andiamo è molto brave facciamo un po' di buio ah che abbiamo attirato proviamo una nuova doppia kill gustoso qua c'è un custode ce ne saranno altri perchè si però non ha la voce che dimostra di essere collegato perchè nella missione precedente ci ha fatto vedere che avevano un filo conduttore ok lui ci ha semplicemente sbloccato un'uscita nascondiamo tutto non si sa mai tu chi sei? perchè è il simbolo della campanella? non 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 L'ho notato. Se si tratta alla corruzione, è il vostro per giudicare. Ciò che si tratta deve rimanere in attacco fino a che abbiamo trovato i nostri risultati. As many as you like, let's cover this up. E utilizziamo anche l'espore. Salva spesso, salva adesso. La flama guida mi da questa parte. No, non. Devo ritornare alla mia direzione di patrulla. Onestamente questo manda il bersaglio dalla parte opposta. Che bel pescione. Allora, con sull'Ady possiamo anche nuotare in caso. Quindi volendo ci possiamo anche tuffare però. Mi sento un po' costretto da questa parte. Vediamo cosa c'è da qui. No secondi pensieri, eh? Bene, tu così puoi uscire da qui. Volendo puoi fare anche una bella strage perché becchiamo tutti loro. Ancora meglio? No, 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 no. Entra qui magari, non dalla parte opposta. Secondo me così lo facciamo tranquillo. A meno che sull'Ady non esce a cannone, sbatte contro di lui e lo attiva. Anche così è perché... Sì, lui non era messo in vista per nessuno. Questi due cerchi sono quelli del rumore dell'uccisione. Lui si gira attivo. Oh, mi piace questo. Kill il corpo? Non ci guarda mai. Spero qui in breve. Questa è la connessione che Ignatia ha qui. Ehi, hai un pezzo di dredvine qui qui. Questi vengono da l'islanda vicino. Riproviamo. Ancora avanti. Proviamo così. Anche così andava bene. Don't let the flame get you. There is mild corruption here. I have already requested the right of purification. Good. Reports of your diligence have not been exaggerated. I live to serve the maiden, though I do find this task rather peculiar. The Grand Council has sanctioned our pursuits. Your piety will not be dismissed. That is good to hear, my lady. E qua state belli densi. Allora questa è una kill che abbatte lui. Interessante. È proprio quello che ci serve. Questa è una grande alcazione. Oh, I'll have to note that down. I'll be there soon. What ails your soul today? Talva. Yeah, let me add. Quite the connection Ignatia has here. Hey, that's a piece of dredvine over there. These come from the nearby islands. Dredvine's Cove. Angela's Grave. The small. Coral from Calamity Reap. Slabs from the Iron Bay. I'd wager that the riddle has Ignatia already stumped. Mi serve più vicino perché voglio saltare. Mmm, it's always from the air. I must be imagining things. Working on it. Okay. Careful when handling the fauna from Calamity Reap. Who knows what ruinous energies still linger in them. Watch me go. Who? Oh, yes, yes, I've heard it all before. My soul is a razor shop. I'll snap my fingers. Oh, I can pull a lot of kills. Why? Three little cuts. Move it to the space mark for temporal storage at once. Incoming. Food for the... È comunque su un'area che non può essere vista. When is that ship coming? As many as you like. It's all a lose. All right. Easy fix. One day I'll find out how you do it. Vediamo che succede. Oh, I like that. It's no maiden fire. All but it's still must burn. Pur, not worth my attention. Perfetto, abbiamo fatto diventare la zona tratteggiata. qui non è la zona età. Eeeh, questo è stato in silenzimo, un troppo capitato Capitale Sì, vieni qua, tu Non c'è nessun altro che quindi ci possiamo prendere al volo questo, ce lo portiamo via Su, virati Molto bene, tutto ripulito Sì, vieni qua Siamo in un po' Siamo in un po' Siamo in un po' E' un po' E' un po' Non c'è problema Perchè lo prendere di me? L'Inquisitor ha chiesto che ti guardare il riddle, frate Anche io posso sentire la corrupzione nella cosa Ah, l'ha dato lui a lei Ah, l'ha dato lui a lei Potente con l'energia di soul Faccio la lighthouse Potremmo maturare due piazza con una stona La lighthouse, dov'è il faro? Ma come ti sei piazzata bene Mi sembrava più grande questa ma per realtà abbiamo già fatto diciamo Siamo tutto spento, questo ovviamente ci vede da un chilometro Ok Ecco, se facciamo così mettiamoci su Caccato sotto Qui c'è la lighthouse Siamo in un ombre Siamo in un ombre E evitando le gaze di eudicci Si Oh, questo è fascinante Qualcuno potrebbe riaccendere la candela, ma non è una cosa che mi deve sbattere il cazzo, mi aveva detto. E qui andiamo a fare la kill diretta senza troppe storie. Sì, vediamo qui? Guarda questo, una scuola con la writing, e è riuscita con la soul energetica. Quindi, sono queste parole di Mordecai? Sì, posso sentire, io, ascoltare. Five of Marley's crew assemble, relics lost on timeless shores, One of bark and cursed bramble, one of black and ashen ores, One of bone and fingers cold, one of futures yet untold, Bring to light the captain's gambit, behind Marley's secret doors. Ah, to hear the captain's voice again. Bene, così ci darà un terzo personaggio. Let's get you somewhere else. Through the below we go. Ops, solito recap. Tanto carino. Ho acquistato un ricaricamento. Finita molto veloce, dai. E siamo tornati, ora dobbiamo scegliere un nuovo membro dell'equipaggio. This stone slab, these are the captain's words meant for us. I couldn't help but notice, the stone is dripping with soul energy. A gift from the captain. I have already drawn it out. I believe we have enough to revive another crew member. I will leave the decision to you, while I ponder the secrets of the riddle. Bene, sono troppo curioso di sbloccare il pescatore. Dov'è? Questo. Voglio sbloccarlo a prescindere. Golden greetings! Vediamo. La canna del tesoro è uno strumento versatile che può tirare fuori dalla mistia compagni di shurma, attirare i cadaveri dell'inquisizione del forziere e attivare le leve. Bello. La testa d'oro. Quentin si toglie la testa d'oro e la getta a terra. I membri dell'inquisizione inesperte sono solitamente attratti. Perfetto. Sa nuotare, si può arrampicare. Sei dei nostri. Non c'è la testa. Trezoranta. Bene. Ah, ecco la testa. Buongiorno. Tu devi essere Quentin Albers, il pescatore. Tu davvero hai una scala di gara. Ah, sì. La cuore. Una delle più interessanti delle mie possesse. Sì, quanto per la sblocca in tuo pezzo? Ti darò, diciamo, 100 rupi. Non c'è la testa. La testa d'oro. Il pescatore ha necessito questo serto per la sua potenza, Trezoranta. Il pescatore ha chattuto? Sì, non è una spia che non è un pochè per a pricare le mie... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. As much as one can be among pirates. Oh, abbiamo fatto il tutorial, vediamo se con lui ci dà un'interazione, una scena, il suo giuramento. Quentin. Io, qui per procurare le coinnecchie e prendere le ricche del Carribeano perdono. Bene, ne mancano tre. Ah, Maldekai, tuo dottor dottor, scendendo un'interazione di città qui e non mi dicendo che il mio figlio sarebbe freddo se non eravamo freddo con l'excitamento. Bene, adesso possiamo diventare quattro. Ah, no. Scopriamo la prossima mappettina. I like these odds. There are many islands in the Timeless Shores. The riddle tells us where to go. Bark and bramble. Ash and oar. Bone and fingers. Those are clues, pointing to three islands. Dreadvine's Cove, an island of wild nature and haunted flora. The Iron Bay, one of the Inquisition's furnace islands. The Isle of Penance. The Isle of Penance. A prison of souls harboring an old associate. I believe they all hold relics. Though the fourth clue is still a mystery to me. We'll figure it out as we go. We also need more soul energy and black pearls. The relics will most likely be imbued with energy. As for the Black Pearls. The twins of Nurek to Muresh still owe us a favor. Dreadvine's Cove and the Iron Bay might also have pearls. I entrust the choice of heading to you, navigator.